Prima di scendere nei particolari di Regina Bari con tutti i suoi presidenti, vorrei dare un ricordo e quindi un omaggio ad un grande campione barese che ci ha lasciati, si tratta ovviamente di Pietro Lombardi che nel 1948, avevo appena 19 anni, ci fece veramente grande gioia nel conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra che furono le prime Olimpiadi del dopoguerra. Io ho scritto qualcosa su di lui anche nel libro Bari ed il Bari e ripeto, voglio ora ricordarlo con delle foto particolari come questa che lo vede insieme a tutta la squadra del Bari del settimo posto che si riunì apposta apposta allo Stato della Vittoria per rendere omaggio al grande Pietro e poi anche con altri giocatori prima di ogni partita in casa durante il periodo degli anni 50. Infine la fotografia storica che Pietro Lombardi è fra due già campioni olimpionici a sinistra Martino e a destra Scarcia, il primo agli anelli e il secondo a sollevamente upesi, specialmente Scarcia che poi diventò anche presidente dell'Angiulli. Detto questo penso di aver ricordato un grande campione, un barese olimpionico da medaglia d'oro. E ora parliamo anche della partita di Reggio Calabria dove il Bari ha giocato 16 volte ottenendo 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Particolare curioso, le 7 sconfitte del Bari sono state tutte per 1-0, non 2-0, 2-1, 3-1, no, tutte 7, è un fatto praticamente di curiosità oltre che statistico. Quindi 7 sconfitte a Reggio Calabria per 7-1 a 0 o 0-1, che dire si voglia. La prima comunque fu una grande vittoria del Bari, una vittoria che come si vede per 3-0 e nell'immagine ci sta il Sabatini che aprì le marcature con un rigore, a sinistra lo vediamo nella foto e a destra c'è il capocannoniere del Bari che è Bretti. Sabatini vive attualmente a Bari e ne abbiamo parlato anche stamattina di questa grande impresa del Bari a Reggio Calabria. Invece qualche anno dopo il Bari si trovò nella stessa condizione attuale, tant'è vero che i vignettisti dell'epoca fecero questa specie di vignetta nella quale disegnavano il gallo che era ammalato perché nessuno lo aiutava finanziariamente e la gallina era disperata per le situazioni del gallo. E questa è una cosa che ho conservato anche per far ricordare che i tempi si ripetono nel Bari. Invece la seconda vittoria del Bari a Reggio Calabria è stata del 13 marzo 1954 in quarta serie. Vediamo quattro dei protagonisti di quella impresa, a sinistra Santoni a centravanti che sostituì i gamberini, Mazzone, Filipput e in ginocchiato Grani che era il centro mediano e il capitano. Filipput segnò due gol, tant'è vero che poi in serata fu festeggiato dai dirigenti del Bari e lo vediamo nel ristorante insieme con il commentatore Somma, Don Andrea Somma e l'accompagnatore, il commentatore Angelo Labanese. Vedete che il buon Filipput è piegato e riceve i complimenti per i due gol segnati a Reggio Calabria. Poi andiamo invece ad una partita, veramente l'ho seguita io personalmente come inviato e in questa partita si fece male Fara che noi vediamo nella fotografia sinistra mentre sta rientrando negli spogliatoi Toneatto con il secondo portiere Colombo. Di quella partita ricordo un particolare corrente si avvicinò a me alla sera alla stazione che partimmo alle 11 con un treno Reggio Calabria a Bari e mi disse dottore questa è l'ultima volta che veniamo a Reggio Calabria perché noi andremo in Serie A e così fu. Speriamo stavolta la stessa cosa. Mentre in quarta serie, anzi in Serie C, in Serie C il Bari vinse 2 a 0 a Reggio Calabria però con un'invasione di campo quando stavamo vincendo per 1 a 0 e qui vediamo Seghedoni che quel giorno debuttava sulla panchina del Bari a posto di Pirazzini che dava istruzioni alla squadra che naturalmente ottenne sia sul campo sia a tavolino la vittoria ed è stata la terza e ultima vittoria del Bari a Reggio Calabria. Mentre invece noi abbiamo una bella immagine, anzi due belle immagini di Regina Bari 2 a 2 in Serie B con fascetti, sopra c'è il gol di Doll, quella foto in alto, mentre giù è il raddoppio di Guerrero, infatti il pareggio fu ottenuto purtroppo su rigore al 92esimo dalla Regina. Andiamo avanti ancora e vediamo qui la partita Regina Bari 1 a 0 del 25 maggio 2001 in Serie A. Qui fece scalpore una notizia, direi così simpatica, nel senso che debuttava un giovane della primavera Sibilano che annullò completamente nei 90 minuti Dionigi che poi venne a giocare anche a Bari e oggi è l'allenatore del Taranto, centravanti della Regina. In ultimo, l'ultima partita, cioè quasi di dieci anni fa, è stata Regina Bari 0 a 0 e c'era Gianni Manico in panchina, sulla panchina del Bari. Ebbene questa partita fu giocata in una maniera meravigliosa dal Bari e purtroppo sfiorò diverse volte il gol, soprattutto con Valdés, detto El Pajarito, che meritò la palma del migliore in campo. Ripeto, 16 partite a Reggio Calabria, 7 sconfitte, tutto per 1 a 0, 3 vittorie di cui 1 a tavolino. Speriamo bene anche per stavolta. Grazie. Grande Gianni Antonucci, grande professore, versione c'è posta per te, con questo spazio registrato. Comunque prima o poi io spero di riaverlo qui Gianni perché questo è anche un po' il suo spazio, la sua cattedra. C'è già un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Luigi. Ciao Luigi, ciao caro. Un abbraccio a Andrea Dandolucci e un saluto a voi. Senti Enzo, per tagliare la testa al toro e per evitare, come tu hai detto, che noi ci impelaghiamo in questi bilanci, sarebbe opportuno, per chiarezza vera, che la società ha i libri di depositarsi in tribunale, di modo che chi ha intenzione di vedere le situazioni come stanno, è più giusto che vada in tribunale o da un notaio, anziché andare dai Mataresi, sarebbe giusto in modo che uno possa rendersi conto da persone legali, preposte a queste situazioni, non accampate, non questa dichiarazione di non parlarne, queste sono mezzucci secondo me, che vanno eliminati per chiarezza, si prendono i registri e si portano in tribunale. Io, Luigi, desidero acquistare la società, vado in tribunale e il tribunale mi dà conto di tutta la situazione ed è vera, è vera, è vera quella che dirà il tribunale. Grazie a te, Luigi, grazie. Dobbiamo fermarci per una nuova pausa pubblicitaria e poi torneremo, abbiamo anche un'intervista registrata questa mattina telefonicamente con Garofalo, difensore del Bari che rientra per questa gara, mentre non rientra Crescenzi che è rimasto con l'Under 21, ma parleremo ancora del premio Xen di questa sera, anche perché viene premiato un altro nostro amico, Antonio Di Gennaro, ricordiamolo e lo diciamo forte. Pubblicità, poi di nuovo insieme.